2-3 1-2 3-2 1-2 1-3 2-3 2-3 3-3 1-2 3-4 3-4 4-3 Sì, no. E' da me, Gaios! E' da me, Gaios! E' da me, Gaios! E' da me, Gaios! Sto passando di così... Coppiati di terra, o si? Sì, no, si è freddo. Oh, la stava, non vuoi potere la mano! E' da me, Gaios! la cera 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 tutto il mare già va più 19,8 va un tocco bianco Sì Beh, questo è o no? E' una super menuta, guarda E' una roba, vedi? Guarda se a ferma Dai, grazie Ehi, guarda Ehi, guarda la bianca! che fanno le vostre assi? Lì sono lesse. Sì, ma questo è proprio che si muoveva di culo. Sì, ma questo è quello che si muoveva. Sì, ma questo è quello che si muoveva.